Ci vorranno sei mesi per completare l'intervento di riqualificazione dell'area mercatale di Via Piave nella parte situata in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. Un presidio di sorveglianza fisso dei vigili urbani di Salerno, bagni nuovi, la messa in sicurezza delle alberature nel piano di riqualificazione illustrato questa mattina ed è avviato concretamente con i lavori con il beneplacito del Comitato di Quartiere di San Francesco. L'avvio dei lavori è avvenuto questa mattina alla presenza anche del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è stata occasione per l'assessore al commercio del Comune di Salerno, Dario Loffredo, di parlare in modo più ampio anche di altri progetti di riqualificazione che riguarderanno le aree mercatali del Comune Capoluogo. Chiamo sicuramente di mantenere nei tempi, ma siamo soddisfatti di iniziare questo nuovo anno 2020 con questa iniziativa che avevamo programmato da un po'. La risistemazione dei mercati chiaramente non finirà qui, abbiamo già in programma di riandare al decrescenzo dove c'è stata già l'anno scorso una ristrutturazione per mettere in sicurezza la parte di sopra dove è piove e di fare un po' di manutenzione e di andare subito a Robertelli dove c'è la parte del mercato ittico che è un po' scivolosa quindi deve essere assolutamente revigata e credo che lo faremo entro il prossimo mese. Questi sono gli obiettivi che ho dato al dirigente e che ci siamo dati come amministrazione. Insomma dobbiamo mantenere un programma di ristrutturazione dei mercati che andava fatto non solo per dare decoro agli operatori che ne avevano bisogno ma questo mercato voglio dire sarà chiuso secondo quella che è la legge regionale ma anche coperto non solo dalla parte degli operatori dei mercati ma di tutti gli avventuri che potranno passeggiare ritrovando quel colore, quegli odori del mercato che avevamo da piccolini e poter comprare qualcosa in totale libertà con la sicurezza dei residenti. Infatti le radici degli alberi saranno preservando il verde e saranno messe in sicurezza quelle pericolose. Più nello specifico per quanto riguarda l'area mercatale di Torrione in via Robertelli sono scaduti i termini entro i quali il progetto di finanza privato poteva essere attuato e quindi si ricomincia da capo. Che credo che ad oggi, ho chiesto qualche tempo fa la cantarella, sia anche decaduto perché l'imprenditore non ha dato seguito agli atti burocratici che avrebbe dovuto. Quindi chiaramente chiunque voglia presentare un progetto di finanza può farlo e riguarda l'ufficio dei project financing. Per quanto riguarda noi abbiamo recintato e delimitato l'area l'anno scorso, dobbiamo secondo me automatizzare per togliere la promiscuità tra il parcheggio e il mercato ma dobbiamo sicuramente intervenire dalla parte ittica perché è scivoloso, le signore la mattina possono cadere e quindi nelle prossime settimane daremo atto così come abbiamo dato atto a questo intervento che è di un quartiere distintivo della città.